A zero, cambiano i binari, si ribaltano le prospettive, è un gol importante in un momento cruciale della gara. Davvero l'istinto d'attaccante, ha scommesso sul fatto che potesse essersi una respinta, c'è sempre un'occasione come questa. Straordinario l'incitamento dei tifosi e forse c'è anche questo dietro al gol appena realizzato, una spinta davvero meravigliosa. A zero, un gol pesantissimo, a meno di 600 secondi dalla fine. Ha sempre segnato in partita del genere, bisognava solo capire quando avrebbe fatto. C'era la speranza di una sorpresa, ma alla fine il punteggio è stato più o meno quello che ci si poteva attendere. Non penso che l'allenatore possa lamentarsi. Siamo arrivati alla fine, grazie è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento anche per Giosetta Fili da parte di Piero Gipan. Da presto! Grazie a tutti.